Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere la seguente disequazione logaritmica. Logaritmo base 2 di logaritmo base 3 di 2 meno x maggiore di 2. Per risolvere questa disequazione dobbiamo impostare il seguente sistema. Innanzitutto dobbiamo porre 2 meno x maggiore di 0. Questo per garantire l'esistenza del logaritmo base 3. Poi dobbiamo porre logaritmo base 3 di 2 meno x maggiore di 0. Questo per garantire l'esistenza del logaritmo base 2. Infatti ricordiamo che un logaritmo è definito quando il proprio argomento è maggiore di 0. A questo punto possiamo considerare la disequazione logaritmo base 2 di logaritmo base 3 di 2 meno x, tutto maggiore di 2. La prima disequazione si risolve immediatamente, infatti si ha meno x maggiore di meno 2 e quindi x minore di 2. Anche la seconda è molto semplice, infatti abbiamo 2 meno x maggiore di 3 elevato alla 0, quindi maggiore di 1. Da qui abbiamo meno x maggiore di 1 meno 2, quindi di meno 1 e x minore di 1. Per quanto riguarda la terza disequazione abbiamo un logaritmo di logaritmo. Vediamo come si risolve. Quindi scriviamo logaritmo base 2 di logaritmo base 3 di 2 meno x maggiore di 2. Scriveremo logaritmo base 3 di 2 meno x, cioè l'argomento del logaritmo base 2 maggiore di 2, che è la base del primo logaritmo, elevato al quadrato al quadrato. Quindi logaritmo base 3 di 2 meno x maggiore di 4. A questo punto scriveremo ancora 2 meno x, cioè l'argomento del logaritmo base 3 maggiore di 3, che è la base del logaritmo, elevato alla quarta. Quindi si ha 2 meno x maggiore di 81 e ancora meno x maggiore di 79 e da qui x minore di meno 79. Visto che stiamo svolgendo un sistema, non ci resta che mettere insieme tutte le soluzioni ottenute fino a questo momento e considerare i valori comuni. Ricordiamo le prime soluzioni. La soluzione della prima disequazione è x minore di 2, quella della seconda disequazione è x minore di 1, quella della terza disequazione è x minore di meno 79. Costruiamo a questo punto un grafico inserendo al suo interno i valori ottenuti fino a questo momento, meno 79, 1 e 2. Abbiamo detto che le soluzioni della prima disequazione sono tutte le x minore di 2, le soluzioni della seconda sono le x minore di 1, le soluzioni della terza sono le x minore di meno 79. Naturalmente le soluzioni in comune a tutte e tre le disequazioni sono quelle tratteggiate in verde, quindi scriveremo come soluzione finale del nostro problema x minore di meno 79. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video-lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.